Questa Germania è davvero molto molto agguerrita Bene gli geni sono e bentornati con un altro episodio di Euro Royale 2016 Ragazzi mi raccomando come al solito 250 likes prima dell'inizio della partita Perché anche la scorsa volta e la scorsa scorsa volta ci ha portato fortuna Quindi mi raccomando sotto a spolliciare tirate fuori quei bei pollicioni azzurri Come al solito insieme a Lonnie the Wolf Ciao a tutti ragazzi Ho seriamente speso 5000 di oro Noi vi lasciamo a Italia Germania Un'Italia determinata, imperterrita, combattiva è quella che speriamo di vedere stasera Italia-Germania, gli azzurri affrontano il campione del mondo in carica E entrano in campo con l'entusiasmo non di sconfitti ma di guerrieri Pronto a vivere questa sfida e queste emozioni insieme a Fabio Caressa E Beppe Bergomi Vediamo dunque la formazione che ha scelto Antonio Conte per questa importantissima sfida Come al solito Buffon tra i pali Difesa bianconera invalicabile formata da Barzagli, Chiellini, Bonucci Cambia il centrocampo Antonio Conte ha deciso di schierare Parolo e Florenzi Mentre in attacco i soliti Eder e Pellè Ma vediamo subito gli otto di Jakim Löw Sì Fabio, è una formazione davvero ben bilanciata Che mira a controllare il centrocampo E dunque troviamo in porta Neuer In difesa Boateng e l'espertissimo Hummels Centrocampo massiccio della formazione tedesca Troviamo Ozil, Kroos e a lato Müller Davanti a questo centrocampo davvero pesantissimo Le due punte Goetz e Gomez Colleghiamoci dunque subito allo Stodio Arena Leggendaria Pronti per vivere queste emozioni Una sfida davvero epica Che ha le sue radici fino ai primi mondiali ed europei Infatti la Germania non è mai riuscita a battere l'Italia In gare non ufficiali Jakim Löw si è dimostrato invece nelle interviste Molto sicuro di questa vittoria Giusto Beppe? Sì Fabio, sulla carta è nettamente superiore la formazione tedesca Ma vediamo che già in campo i tedeschi riescono a contrastare con Ozil e Müller Un abile attacco della formazione azzurra Una sfida anche tra i due migliori portieri dell'europeo Perché ricordiamo che Neuer e Buffon sono gli unici portieri che non hanno mai subito una rete Sì Fabio, speriamo che non rimangano inviolate le reti Una Germania che punta subito ad attaccare Vediamo che anche l'Italia non è da meno Perché prova ad attaccare subito con Pellè Attenzione, attenzione a Goetz Partabilmente l'attacco dell'Italia che purtroppo non va a buon fine Un Müller che è riuscito a fermare senza nessun pericolo per Neuer, Pellè Attenzione Fabio al duo Ozil-Gomez che può essere veramente devastante se arriva sotto porta Vediamo se l'attaccante centrocampista tedesco riuscirà a sfondare le linee azzurre Tutti in difesa ora, tutti gli azzurri in difesa Tutti concentrati nella loro metà campo Primo tempo che si sta per concludere sullo 0-0 Sì Fabio, è stato veramente una manovra Un 1-2 veramente devastante Ma comunque le file azzurre Espertissime e attente al gioco Non si sono fatte sorprendere Italia-Germania 0-0 questo primo tempo dunque ritorniamo in studio a Roma come al solito per le interviste Salutiamo subito dunque il nostro Alessandro Antinelli Ciao Alessandro Ciao Fabio, qui da bordo campo fa davvero un caldo atroce che sta attanagliando anche i giocatori in campo Un esempio lampante è appunto Cross che non sta regalando quelle giocate di cui è conosciuto Ma attenzione perché abbiamo fermato Boateng, uno dei due fratelli Boateng E dunque come sta andando tu che stai vivendo questa partita dalla difesa tedesca? Ma io non so, l'unica cosa che mi interessa è vincere Perché Merkel mi ha promesso che se vinciamo e io difendo la porta Mi regala pezzi di Gran Bretagna Grazie Alessandro, sì grazie tanto Ritorniamo però perché sembra che Alessandro sia riuscito a fermare un altro giocatore questa volta dell'Italia Sì Fabio, parole scioccanti da parte di Boateng Ma passiamo subito oltre perché abbiamo qui al volo Gigi Buffon Allora Gigi, questa sfidata a te è noier, dici un po' cosa ne pensi Ma sì, io penso di essere ancora il migliore al mondo Lui è molto giovane, può fare molto bene ma secondo me non ha capito niente Perché oggi la partita la vinciamo noi Perché se l'Italia non vince io perdo il sistemone e poi ha voglia di smadonnare Ritorniamo, ritorniamo subito perché l'intervallo è finito I giocatori si appressano a schierarsi di nuovo in campo Ritorniamo dunque nello stadio francese Pronti a vivere questo secondo tempo I giocatori, li abbiamo sentiti, sono carichissimi Sì Fabio, la formazione azzurra sta chiaramente scendendo in campo molto più motivata Pagherei oro per sapere Conte negli spogliatoi cosa ha detto ai giocatori Tutto verrà deciso in questi ultimi 45 minuti E Beppe, mi sembra che Yakim Lev abbia deciso di fare subito delle sostituzioni per questo intervallo Sì Fabio, abbiamo visto un Ozil molto stanco e appesantito anche dalle condizioni climatiche dal campo pesante E dunque per Ozil entrerà in campo il giovane Kedira Ma attenzione perché ci sono arrivati adesso dalla regia i dati E pare che Antonio Conte abbia deciso di usufruire di tutte e tre le sostituzioni in questo intervallo Entrerà dunque Insigne al posto di Eder Immobile al posto di Florenzi E Desciglio al posto di Bonucci Forse forse cambierà anche il modulo durante la gara perché entra Insigne che ha una seconda punta Insomma vedremo Attenzione, attenzione Prima vera azione della gara, incredibile azione dell'Italia Grandissima parata di Neyur Ma nulla da togliere a Pellè che ha fatto davvero un'azione strabiliante E vediamo anche subito il neo entrato Kedira Sì sì Fabio vediamo Kedira che subito accompagna l'azione di Goetz Sì bella parata, bella parata davvero di Buffon Che si conferma uno dei porteri più bravi al mondo devo dire Sì Fabio vediamo che Neyur sta chiaramente rosicando dai suoi pali Vediamo, vediamo subito Insigne che prova a ripartire Prova il tiro di poco sopra la traversa Attenzione Cosa si è mangiato Insigne? Vediamo se questi sprazzi di giocate geniali riusciranno a portare l'Italia in vantaggio La panchina dell'Italia che si era alzata tutta pronta per risultare Purtroppo Insigne non è riuscito a spingere la palla in rete Riparte Pellè con Insigne L'Italia non si arrende, attenzione Che giocata, che giocata, forse ci siamo Attenzione solo E ha segnato E proprio quando il risultato sembrava sotto controllo Ecco l'improvvisa doccia fredda E dura la legge del calcio Ha attraversato il campo a grande velocità e gli avversari non sono nemmeno riusciti ad avvicinarsi Attenzione, riparte la Germania in questi ultimi minuti Sì Fabio, sono andati chiaramente vicinissimi al gol Ma è finita in questo momento Incredibile, incredibile Gli azzurri conquistano una meritatissima vittoria Questa nazionale a testa bassa Tanto fiato e tanto cuore riesce sempre ad arrivare a segno Anche nei minuti finali Ritorniamo, ritorniamo come al solito a Roma Perché? Perché dobbiamo sentire anche l'opinione dei giocatori di questa partita I tedeschi che non saranno di certo soddisfatti Colleghiamoci dunque nuovamente con il nostro bellissimo Alessandro Antinelli Vediamo cosa avrà in serbo per noi Per questo, dopo partita Ciao Alessandro, mi senti? Sì Fabio, grandissima festa Quasi non riesco a sentirti Per tutto il rumore che si fa dagli spalti Vedo i giocatori in lacrime Ma siamo riusciti a fermare l'autore del gol Il protagonista assoluto di questa partita E dunque abbiamo qui con noi Insigne Come ti senti dopo aver segnato il gol vittoria Dopo aver fatto andare la tua nazionale La tua squadra e il tuo cuore in semifinale? Conte mi ha detto che se finiva i compiti in tempo per il primo tempo Mi faceva giocare Così io ho finito di fare matematica Italiano, ho fatto un bel tema Sono sceso in campo a giocare con i miei amici Adesso non vedo l'ora di tornare all'asilo Con il mio amico Giaccherini E mangiare la torta che mi ha promesso la maestra E cari telespettatori Ora devo dirvi una cosa Io e Beppe, guardate, siamo davvero... Sì sì Fabio, scusami, scusami se ti interrompo Sono sempre Alessandro Antinelli Abbiamo qui Thomas Müller Allora Müller, come mai non ti si è visto in campo? Sei stato comunque uno dei pochi che è riuscito a difendere le fila tedesche Dunque cosa pensi? Ma penso che il fatto l'amore con il sapore non è vero niente Perché io ho fatto amore prima di partita con Yogurt Müller Ma non è servito a niente Abbiamo perso uguale E dunque Fabio, un delusissimo Thomas Müller Che ha cercato anche il piacere Prima della partita ma senza successo A te la linea Grazie Alessandro per avermi interrotto un'altra volta Vi ringraziamo per essere stati con noi Anche per questa entusiasmante partita Ancora una volta Forza Azzurri Forza Italia Un saluto da Fabio Caressa E Beppe Bergoli